Bentornati a Detto? Fatto! Io sono Valentina e lei è? Giorgia! Allora Giorgia, oggi proviamo a fare il costume alla Barbie e anche la sdraio, la sedia sdraio, così quando vai in piscina sta comoda. Vogliamo provare? Sì! Ok, cominciamo! Allora innanzitutto ci serve un palloncino di qualsiasi colore voi vogliate, tu di che colore lo vuoi fare? Giallo! Ok, allora prendiamo il giallo e io lo faccio rosso. Allora adesso dobbiamo tagliare il palloncino in questo modo, lo faccio io e poi lo fai tu, ok? Ok! Questo pezzo così, lo ripieghiamo e tagliamo il forellino per le gambe della Barbie, qua. Ok! Prova tu! e abbiamo fatto il pezzo di sotto. Adesso passiamo a quello di sopra. Adesso dobbiamo tagliare questo pezzetto qui del palloncino per fare il laccetto del costume. Adesso vestiamo la Barbie, mettiamo il costumino alla Barbie. Adesso con questo pezzetto, passa l'uno il pezzo dentro l'altro, tiralo dietro alla testa della Barbie. Questo è il costume della nostra Barbie. Adesso prepariamo la sedia a sdraio. Prendiamo un cartoncino e facciamo passare del fil di ferro all'interno e lo pieghiamo in questo modo. Questo è il risultato e abbiamo passato il fil di ferro per renderla più rigida. Adesso passiamo a creare i piedini della nostra sedia. in questa Grazie a tutti. Adesso, Giorgia, facciamo l'asciugamano per la sdraio. Sì. Questa è la nostra Barbie al mare. Vi aspettiamo la prossima puntata di detto... Fatto. Ciao, ciao da me e... Giorgia. Ciao.